Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'universo dei Nabboni, io sono Carlitos e qui come c'è... Io sono Andrache e oggi faremo un piccolo scherzettino. Questa è la casa del nostro amichetto, il Senior Steelbox, guardate che bella casina si è costruito. Siccome ieri mi ha fatto un piccolo scherzetto, oggi mi vendicherò con lui. Quindi, iniziamo subito, spiego un po', mettiamo la TNT sotto tutta casa sua e poi quando lui premerà questo plantino qui, che è un affarino che si è costruito lui, che apre e chiude le porte in maniera spastica, quando lui schiaccia con il pulsante, tic, si accenderà. Coppia tutto. Basta dai, iniziamo a mettere la TNT. Senti, dove esploderà la TNT? Se la metto proprio sotto esplode? Qui? Ci sta anche se si attiva, sì, si sa che si attiva. Allora basta, mettiamo TNT e impalate. Dai, te la metti sopra e la metto sotto. Tutto tra i che nei lati della casa. Ok. Così abbiamo la via per scappare. Eh, vista ragazzi, un po' di scherzettini vuoi non poter fare perché noi siamo in server admin, in caso a me ci salvi il mondo e poi si rimette perché sarà un'esplosione veramente, veramente forte. Sì, quindi Steelvox, ricordati di non far arrabbiare i boss e poi si vendicano. Non vedo l'ora, vi faremo vedere anche la sua reazione ovviamente. Per il momento lui non c'è nel nostro server, ma arriverà presto. Ma direi che siamo anche a posto con la TNT, tu che dici? Ma se no c'è ancora un po' di vuoto. Buttare robe strane a terra che qua esplode tutto. Minchia, davvero. Ma in teoria qui è a posto. Uff, andiamo via. Ma io la vorrei già provare, dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare. Di tutto. Ah, devi tappare anche qui, boss. Cazzo. Ok, a posto. Il server è pronto. Posto. Allora, aspettiamo il suo arrivo. E ora ragazzi... Oh cazzo, no! No! Ok, ok, non ce la tenete lì sotto, che culo. Ma è normale che non l'abbiamo fatto per tutto il ferimento. Legati dalle nostre trap. Ma ti immagini, è come capovastone cazzo. Inculate a bestie, prof. Beh ragazzi, ora tagliamo e aspettiamo lui che arrivi nel server. Sì, ciao ciao. Eccoci, abbiamo detto alla nostra vittima che faremo un video insieme a lui. Ma è tutta una falsa. Ha 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 ha. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carlitos e qui con me ci sono due nuovi ragazzi. Io sono Andrace. E quest'altro che è? Questo che è con l'arco? Perché non riesco a prendere? Che fa il cittone. Ciao Steel. Che fa? Perché non riesco a prendere? È il nostro amicetto di giochi, forse perché laghi? Non è vero, è perché siamo in creativa e non lo sa. No, non l'arco. Allora. Se tu che sei un C, con la C, con la H. Ha costruito la sua casetta. La sua casa e ora ce la farà vedere. Ja. Veramente. Ebbè, certo. La nostra architettura l'abbiamo fatta. Ieri abbiamo fatto vedere quella di Dade, quella di Xir. Andiamo. E qui solo te. Andiamo, andiamo. Qui c'è la farm. La farm di cacao, bellina. Ma che serve la farm di cacao? Non l'ho mai capito. Fare i biscotti. Che cosa? Possiamo entrare? Permesso. Permesso. Salve. Poi c'è la stanzina FK. Sì. E che serve? Oh oh. Porca mia! Oh oh. Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo hai fatto, Sti? Sti, che cazzo hai fatto? Non vale la stanzina FK, oh. Sti, grazie. Sti, non sto più in AFK, io. Che ti fai rammesso, giusto così, per sapere. Che c'hai fatto, mio Dio? No, per informazione personale. Oh, è rimasto solo il tetto, Sti, dai. E' possibile. E' possibile. Che cazzo di ridi? E' possibile rifarla, dai. E' questo, capisci, che non devi fare scherzi. No, lei è gentilissima, ti pare di me, lei in aria, gentilissima. Hai capito? Hai capito? Che te non devi farci gli scherzetti, brutto bastardo? E ora come si fa? Che voglia, che botta. Che botto. Sti. Porca merda. Dove riesco a ucciderlo, ma a quanti blocchi devi cadere per morire? No, so cadere nell'acqua per il mio frutto. Allora come facciamo a ricostruirti la casa? Allora so che sei maria. Meno male che non ha toccato le nostre cose, vai. Adesso vi mettete di impegno. Dobbiamo ricostruire tutta la montagna. No, no. E che cazzo. Dai, Stih, vieni qua. E ti si saluta, dai. Tesoro. No, aspetta. Sto creando la mia nuova casa. Bellina questa cazzo. Oh, con uno scalino. Oh, guarda la bellina. Finché più bella che te quella di prima. No, qua cazzo, aspetta. Andrace, mi metti una luce qui? Guarda allora, qui c'è l'angolo cottura. Dove? Andete a vedere. Va a vedere. Vedere. Porca merda. Vieni che bastardo. Ok ragazzi, il video finisce qui. Bravo, bravo. Mettete il mi piace, commentate, condividete. Fate la cacca senza sporcare in giro. Vi vediamo al prossimo video. Mettete i dislike però, segnalate il canale. Grazie. Ciao, Stih. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.